Ci sono ferite che un soldato non mette in conto. Le parole di Ludovica Perrone, la soldatessa 27enne amante del caporal maggiore Salvatore Parulisi, sembrano aprire uno squarcio nel mistero sempre più impenetrabile che avvolge il brutale omicidio di Carmela Melania Rea. Sono passate quasi tre settimane dal ritrovamento del corpo senza vita della giovane mamma nel bosco delle casermete, vicino Civitella del Tronto. L'attività investigativa e i vari esami scientifici eseguiti finora hanno fornito solo risposte parziali, mancano le certezze. Si sa che è stata vittima di un omicidio d'impeto, che può voler dire tutto, passione, rabbia, invidia, gelosia, necessità di farla tacere per sempre. Che è morta nel terramano e non ha coles a Marco, come si supponeva all'inizio. Che all'ospietato assassino non erano bastate 23 coltelate per uccidere la giovane mamma, anzi è tornato sul luogo del delitto a infierire nuovamente altre 12 volte sul corpo già martoriato di Melania. Uno psicopatico della zona mai scoperto finora, oppure una persona con sangue freddo e autocontrollo da vendere, magari recuperato dopo momenti di follia, forse perché reduce di innumerevoli sedute in palestra ed esercitazioni militari. Un soldato addistrato per combattere, ad affrontare situazioni durissime? Risposte vanno cercate proprio nell'ambiente lavorativo del marito di Melania? La caserma Clementi, dove Parolisi addestra le soldatesse? Un ambiente dove spesso le relazioni tra istruttori e giovani reclute oltrepassano il limite lavorativo. Ne dà la conferma proprio Parolisi e la sua abitudine di intrecciare storie clandestine con le sue sottoposte. Tra loro, l'ex allieva Ludovica Perrone, ora impegnata in un altro corso di addestramento a Lecce. Ma nella caserma Clementi succederebbe molto di più. Secondo le indiscrezioni del mondo militare, spesso vi sarebbero stati organizzati dei veri festini di sesso e droga. E se fosse proprio questo il contesto dove è maturata la morte di Melania? Forse l'assassino temeva che lei sapesse qualcosa e l'ha messa a tacere per sempre. Ormai è quasi certo che Parolisi ne sa molto di più. Ma racconterà mai tutta la verità?